Io sono Nicole Toibner e sono mamma di tre figlie e oggi sono felicemente Networker Forever da circa 16 anni. Come è andata questo mio inizio come Networker? Come tante mamme, anch'io dopo le prime due figlie, mi sono trovata in una situazione di conflitto tra la carriera e tra il desiderio di stare con le mie figlie. Per me era libertà finanziaria, io sono una persona che ama la propria libertà, ma non volevo assolutamente rinunciare a seguire le mie figlie. È stata mia sorella a presentarmi questa grandissima opportunità semplicemente facendomi provare dei prodotti. Come spesso accade, i prodotti mi hanno completamente convinta. Ho iniziato con dei prodotti per uso esterno durante l'estate. E così, quando c'è stato il momento di dover trovare una nuova occasione lavorativa, non ho avuto proprio dubbi. Ho seguito l'esempio della mia sponsor di mia sorella, che nel frattempo era già una grande manager in Germania. Oggi ho una grandissima community, la Lifestyle community FMG. Sono felicissima di aver aiutato altre donne a diventare manager di questa bellissima azienda. Non farei niente di diverso di quello che ho fatto negli ultimi 16 anni e credo che questa opportunità sia davvero una delle più grandi del mondo. Noi possiamo lavorare a livello globale, internazionale. Siamo presenti in oltre 160 nazioni. Per me, da straniera in Italia, questo concetto è stato particolarmente interessante e importante. È un lavoro, è un'attività molto adatto a noi donne. Se per noi è importante poter scegliere la nostra vita, questo è veramente un modo eccezionale per raggiungere questo obiettivo. Quindi mi auguro che davvero con questo breve video io possa dare speranza e possa dare ispirazione a tante altre persone che ancora non sono convinte e ancora non conoscono questa bellissima realtà. E aspetto tutte quante e tutti quanti a buttarsi in questa bellissima avventura che è il Network Marketing Forever. Grazie mille per l'attenzione e buon lavoro!